Eccoci di nuovo insieme ben ritrovati per la presentazione di questo scrittoio che è il pretesto per presentare un altro personaggio che viene ipotizzato essere stato uno degli allievi di Giuseppe Maggiolini. Il primo anche in questo caso a parlare di questo ebanista è Alvar González Palacios che descrive utilizzando la scoperta soprattutto di un segretero oggi conservato a Palazzo Bianco a Genova che è un segretero il cui Anta Centrale presenta un disegno che è lo stesso speculare rappresentato sul piano in questione di questo bacco piccolo bacco trainato da cavalli con un fauno e via dicendo. In questo disegno il segretero reca la firma di Antonio Mascarone in Cesano 1802. È un ebanista quindi di Cesano periferia di Milano per capirci che realizza in quegli anni questo tipo di segretero con lo stesso disegno che ritroviamo su questo tavolo. Un altro tavolo con la stessa firma e datato invece 1804 è uno scrittoio molto simile al nostro conservato nelle civiche raccolte al Castello Sforzesco ed è scritto e pubblicato da Enrico Colle. È un tavolo che è datato in quel caso 1804 che a parte alcune piccole differenze perché cambiano un pochino le bordure ma ha la stessa struttura costruttiva e lo stesso intarsio del piano. Esiste tra l'altro un altro tavolino analogo pubblicato in questo caso e restaurato da Giuseppe Beretti che si differenzia perché ci sono due rosoni sul piano con dei disegni diversi ma ha la stessa costruzione identica a quella del tavolino conservato al Castello Sforzesco e di questo che stiamo descrivendo. È un ebanista che lavora su campiture molto ampie. In questo caso come vedete abbiamo un rosone centrale e in realtà una grande distribuzione di legni vari. Lavora, siamo nell'ottocento, abbiamo già la presenza del mogano, qui abbiamo un grande fondo in noce d'India, poi noce, palissandri, intarsi vari con aceri e aceri tinti perché la parte descrittiva dell'intarsio è una parte che va a lavorare molto sul cromatismo. È però per queste caratteristiche molto distinguibile. Anzitutto è un ebanista che si firma di frequente, spesso anche col monogramma AM oppure AMF che sta per AMF e spesso mettendo proprio cesano come provenienza. Ed è distinguibile perché appunto i legni sono spesso gli stessi e le rappresentazioni sono molto ridotte in campi molto semplici. È un ebanista minore, mi viene da dire, fra gli allievi di Maggiolini, non ricchissimo, a parte forse un paio di segreter, fra cui quello di Palazzo Bianco, però molto puro, lineare e semplice nella sua esposizione degli spazi e delle raffigurazioni. Nella parte di dettaglio è molto bravo anche nel realizzare i disegni e nell'accostare le diverse cromie, le diverse essenze per creare un effetto sia di profondità che di descrizione pittorica. Con questo ebanista chiudiamo la presentazione di oggi e vi attendiamo alla prossima.